andiamo alla rai come andiamo al museo qua di questo nella rai si si sono andato altra volta tutto è gratis tutti i giorni venghi apriti credono arca putta mi resto museo è della corelina non lo so ragazzi mi sa che dovrebbe andare a processo gli ho detto di chiamarlo ma non mi sembra che l'abbia chiamato la bocchetta bella questo può anche sedere bel bel prodotto ma giuse gioca con le quiz quiz di buongiorno si metta dentro quanti scudetti ha rubato lì si mette le cuffie no c'è si sente sì c'è buongiorno no si sente non si sente un cazzo ma forse devi cliccare premi il pulsante giallo parla non si sente la canzone ma sigla 707 milioni e 800 mila lire ti stai giocando sono soldi ah si è rotto ah scusa scusa grazie 6 milioni e 400 mila record dei record per sogno vinte le do un minuto di tempo cominciamo quanti sono e chi sono i protagonisti della chiava chi? della chiava? bravissima giuse adesso mi dica che cosa è il cucchiaio d'argento dell'indovinello una costola di balena una costola di balena bravissima bravissima l'ultima risposta ce l'abbiamo fatta signore di capallo che cosa è il bicchiere da vino dell'indovinello prema non lo so non san cazzo scusi eh signorina ma cosa armeggia eh qui dentro cosa armeggia eh che cosa ha qui dentro eh signorina eh voleva fregare me lei te la ricordi quella? eh cosa armeggia? cosa armeggia dentro eh? non so un cattivino mi ha fatto rire questo è bello fatele a clip come la guardate gentilmente la 1 la 2 o la 3 ma signorina ma le sembra normale che lei venga qui nella nostra trasmissione e ci prenda in giro così armeggiando lì nella sua nella sua giacchetta lì nel suo reggipetto eh ma qui stiamo fuori fuori da ogni logica prego prego vadino come vieni bene? qua giusto anche tu devi esibirti si vado va se esibischi vado io? va vai pronto pronto allora caro Giuse allora tu oggi ti esibiruai in un concerto è un po' basso eh qua non si alza lei si esibuirà caro Giuse in questo nuovo studio le ho rubato alla RAI lei potrà adesso esibirci nel suo cavallo di battuaglia ossia il salto della quaglia vado quanto pede è 200 kg maronna ci voleva la base che cantavamo quella di mulla è per quello è porco bel bel ti puoi fare anche le riprese si metta lì che la riprendo ti metto tre querti ti metto ti inquedro a tre querti ma che bene una vita da mediano bravo bravo questo strato è pure a campagna ho dato giù il quadrato bel bel anche qua poi mi sembra vai fai la prova pronto pronto funziona hang hang no più qua devi farlo si si hang hang fa ridere fa ridere è bello comunque è molto bello è un bel servizio salve agionieri ah ti puoi mettere anche seduto per fare il telegiornale vada giusa vada si sedia aspetta che vedo l'inquadratura se riesco a farla bene ah c'è anche la regia lì posso bello allora dica le notizie di san salvario di oggi per favore giusa ma la zona lì dei portici come va è tutto regolare guarda che bello anche qua pronto pronto se uno si vuole esercitare facciamo come Mosconi è Mosconi no Mosconi credo che non vada bene ecco guarda che bella la 1 la 2 o la 3 si non ti può toccare la 1 la 2 la 3 mettiamo la 3 la 3 è quella la 4 la 4 non ce n'è bel bel spera di non toccare tutti i mixeramenti venga si sente bene bello bello di livello e noi qua abbiamo finito questo il museo è finito terminator vado è anche il museo della rite lo si è visto è anche il contenuto che l'abbiamo fatto anche oggi ma voi non donate mai un cazzo come? per il mio pezzo qua vogliamo vedere i soldi apri ti sedano vado Gesù è 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 Gesù è